caro saluto agli amici della filarmonica sestrese e da tutti i partecipanti di questa bellissima iniziativa che la filarmonica ha voluto mettere in atto da parte della banda forzano di savona durante il lockdown la nostra banda non si è voluta fermarlo perché la voglia di suonare insieme era comunque grande ed abbiamo realizzato diversi video vogliamo condividere con voi questo video realizzato con la formazione giovanile la forzano junior band affiancata dal corpo docente da alcuni elementi della banda forzano nella speranza di poter tornare a suonare insieme in presenza un abbraccio grande a tutti i partecipanti e un grazie ancora alla filarmonica